Buongiorno, buongiorno, siete voi? Ah, sì. Parli francese, anglais, italiano? Italiano. Italiano, mi sta bene. Buongiorno. Buongiorno. Fogliacco. Sì. Cosa hanno di speciale queste bici? Sono fisicamente molto confortevoli, che riescono ad assorbire molto le vibrazioni dell'asfalto e quindi non affaticano sia nei corti che nei lunghi viaggi. Ma sono anche di bambù o...? Sono in bambù. Sono in bambù? Sì. E sono leggere? Sì. Quanto pesano più o meno? Mediamente pesano intorno a... Beh, dipende dai modelli. Quella da corsa sono 7 kg. Sì. Quella da city bike sono 9 kg. Poi con il motore elettrico purtroppo ci sono 3 kg di motore per cui si va a finire a 12-13 kg. Così proprio è il bambù che si è adattato alla tecnologia e ci dà questa possibilità di avere queste bici molto speciali. Sì, sì, sì. Sono bichette realmente molto particolari. Chi le prova non le lascia più. Non le lascia più. Grazie signore. Grazie a tutti.